Allora ragazzi eccomi qua ed è giunto il momento come vi avevo promesso di darvi qualche aggiornamento sui prodotti che avete visto nel mega haul look fantastic di due giorni fa e che ovviamente io ho testato in questi giorni quindi vi so dire che cosa vale la pena di acquistare e che cosa no. Partiamo dalla Tangle Teaser scusate se vedete qualche capello ho cercato di pulirla al massimo ma non sono riuscita a farlo perfettamente allora su di lei vi posso dire che mi è piaciuta tantissimo da utilizzare sotto la doccia districa perfettamente grazie al fatto che i dentini sono super flessibili non tira e soprattutto non spezza i capelli quindi per me lei è super approvata. Il prossimo prodotto che vi voglio recensire non è un prodotto che avete visto nel mega haul dell'altro giorno ma vi avevo detto che l'avevo preso e che volevo comunque parlarvene e visto che al momento si trova in sconto su look fantastic sempre con le promo e col mio codice sconto con le promo appunto della settimana dedicate anche a Natasha Denona ve ne parlo adesso. Allora lo sto testando da qualche giorno l'ho provato un po' in tutte le salse e vi posso dire che si tratta di un correttore molto coprente i primi giorni io facevo l'errore di applicarne troppo invece ne basta davvero una piccola quantità si sfuma molto facilmente e lascia il contorno occhi idratato e soprattutto liftato coperto ma allo stesso tempo luminoso. Io l'ho preso in una tonalità non chiarissima è la RN3 che dovrebbe avere sottotono neutro rosato in realtà è abbastanza aranciato ma va benissimo per le mie occhiaie è davvero azzeccatissimo eccolo qua vedete è un po' aranciato e copre perfettamente la mia occhiaia vi faccio vedere anche l'applicatore che è particolare vediamo se me lo mette a fuoco vediamo se riesce eccolo qua vedete ha questo buchino al centro che preleva il prodotto e riuscite a dosare molto bene la quantità mi raccomando mettetene poco ma secondo me è un prodotto che se siete portatrici di occhiaie dovete assolutamente provare. quello che vi sto per mostrare adesso è un prodotto che va perfettamente in combo con il correttore e anzi utilizzati insieme sono fantastici lui avrei dovuto mostrarvelo in realtà nel video haul ma era rimasto in fondo in fondo al pacco di look fantastic e non l'avevo visto tant'è che la sera quando ho editato il video mi è venuto tipo il flash ma io avevo acquistato anche un altro prodotto dove è andato a finire? sono andata a scavare bene bene nel pacco per fortuna che non l'avevo ancora buttato e l'ho trovato ma di chi parlo? di cosa parlo? di questa meravigliosa cipria per il contorno occhi di Laura Mercier vi faccio vedere come si chiama perché il nome è un po' complicato eccolo qua così almeno potete screenshotare e lei è una cipria dedicata al contorno occhi io l'ho preso come avete visto nella tonalità 1 quindi quella traslucida che va bene per tutti e è una cipria leggermente luminosa super sottile fantastica per il contorno occhi io ce l'ho su anche oggi e in combo con questo correttore oltre ad essere sottile è anche idratante perché è una polvere per niente secca quando la toccate è super setosa e sembra quasi quasi una cremina è davvero fantastica senza spessore allo stesso tempo illumina però visetta bene il correttore quindi fa sì che il tutto resti fermo lì dove per me è tra le ciprie migliori che io abbia mai provato per il contorno occhi fateci un pensierino e andiamo avanti sempre con gli altri due prodotti di Laura Mercier che ho acquistato e cioè i due prodotti liquidi terra e blush ce li ho su anche oggi adesso ditemi voi se questo effetto non è bellissimo mi piacciono entrambi allo stesso modo non saprei scegliere qual è il migliore tra i due la texture e la performance sono molto molto simili l'unica differenza è che il blush è molto più pigmentato della terra per fortuna la terra fa un effetto super naturale è facilissima da sfumare il blush applicatene poco perché l'effetto Heidi è dietro l'angolo ma guardate che effetto luminoso ma allo stesso tempo naturale amo letteralmente amo se avete guardato il mio video haul sapete che ho acquistato svariati prodotti del brand Iconic London per adesso ho testato solo tre prodotti ma qui al momento ne ho solo due perché il gloss li ho dimenticato nel bagno al piano di sopra perché lo sto utilizzando praticamente tutti i giorni è un gloss leggermente rimpolpante quindi quando lo mettete sentite un po' di pizzicorino ma molto molto leggero quello che mi piace è che non è per niente appiccicoso e soprattutto non si sposta è un classico gloss quindi bell'effetto lucido sulle labbra devo dirvi che per essere un gloss dura anche abbastanza quindi ci piace sia la performance che soprattutto questo effetto leggermente rimpolpante e poi all'interno della selezione c'erano loro questo mascara e questo eyeliner allora l'eyeliner ce l'ho su anche oggi raga è meraviglioso ma meraviglioso la particolarità di questo eyeliner è che ha due punte e direte voi eh mamma mia che novità allora in realtà io non ho mai trovato tanti eyeliner che avessero la punta super sottile come la seconda punta di questo eyeliner e anch'io ero scettica perché mi chiedevo ma che differenza può fare questa punta rispetto all'altra che è una punta classica eh ragazze se non siete super esperte come non sono esperta io con l'eyeliner non ho neanche una grande manualità vi assicuro che una punta così piccina vi aiuta e come io vi assicuro che oggi è una delle poche volte in cui sono riuscita a fare una codina piccolina precisa con la punta ben fatta senza dover arrivare qua o dover correggere il tiro 150 volte non so se voi avete più manualità di me ma io sono scarsissima e lui mi ha aiutato davvero tanto inoltre ha anche un'ottima tenuta io non so eh come mai ma ogni volta che metto l'eyeliner il mio occhio destro in particolare decide di lacrimare e quindi puntualmente mi ritrovo con l'eyeliner da questo lato completamente sciolto e sbavato come vedete oggi non è successo ma non perché io non abbia lacrimato perché questo eyeliner regge davvero molto bene inoltre è super nero e scrive alla perfezione davvero è fantastico non ho altri termini per definirlo invece il mascara è un po' un ni per me in questo momento ma non perché sia un brutto mascara ma perché probabilmente non va d'accordo con chi come me ha le ciglia piuttosto corte in effetti questo mascara volumizza un botto ma non allunga per niente e avendo delle ciglia io non proprio super lunghe me le fa sì belle piene ma troppo corte quindi la formula comunque è bella pastosetta quindi sicuramente dà la sua struttura alle ciglia quello che mi piace è l'applicatore super piccino che adoro soprattutto per le ciglia inferiori insomma il mascara tra tutti è stato il prodotto che mi ha entusiasmata di meno ma ribadisco è un problema delle mie ciglia trovare un mascara che funziona bene con le mie ciglia è davvero una lotta molto molto ardua e infine rimanendo in tema zia natacia e sconti di look fantastic voi siete proprio sicuri 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 di volervi lasciar scappare lei? ve la faccio vedere aperta perché come avete visto tutta bella specchiata non vedete niente siete sicure amiche siete sicuri amici amanti del rosa che voi questa palette non volete accaparrarvela in sconto? io se fossi in voi ci rifletterei molto molto bene attenzione perché le promo non durano per sempre ma solo fino a lunedì quindi fate i vostri calcoli